Ho parlato con Riccardo, il quale mi ha detto praticamente le caratteristiche tecniche che avrebbe piacere che ci fossero nei giri. Diciamo che gli proporrò dei quesiti tecnici a cui dovranno rispondere con attenzione. Abbiamo organizzato tutta la parte dello stage con il materiale in campo e l'organizzazione del campo stesso d'oro. Dove venne svolto lo stage. Questi vanno là, su quelli blu là. La gabbia con i timoni. No, no, no. Prendi i cold span. E per il resto, diciamo, adopereranno i percorsi più o meno che monterò durante questi tempi. Largo qua. Due barriere ancora di queste. 8 e 9 e bianco e nero. Sicuramente saranno percorsi di una certa tecnicità. Passandoci un buon livello di cavalieri, qui saranno dei percorsi abbastanza tecnici. Ciao, buongiorno. Volevo iscrivermi per la gara dei ciuchi. Siamo nel concorso di Natale, al Christmas Show, a loro stessi Riviera Resort. È una penultima gara dell'anno. Sono 520 cavalli questa settimana. E anche se abbiamo avuto quei tre mesi di stop, comunque è stata una stagione ottima a livello di risultati tecnici e soprattutto di partecipazione. I cavalieri hanno dato forte riscontro a questo impianto.